ti faccio vedere questo non ci può e poi con tutta questa delinquenza migliorile che ci sta in giro migliorile no no proprio migliorile ma perchè migliorile? è migliorile, sono delinquente hai capito? e che fanno? ma che fanno? domani non ti fanno al pezzo ti fanno i risalti ma forse lo sanno la parola tua lo sanno la parola tua non lo partendo per piacere i tuoi anni li siamo dite l'unitario pure li siamo dite ora ce ne potremmo pulire la casa vabbè ma guarda è arrivata è arrivata congetta ha cattata la palliccia ha cattata la palliccia nuova cosa ne manda noi? eh? eh? ma pacuncia te va a caer no? la parte semganta va a pulire